Il voto complessivo assegnato a questo articolo di Sony è di 8.6 su 10. Per questa categoria, risulta al momento essere il più votato con 1477 valutazioni globali. Viene molto apprezzato per queste caratteristiche. Leggero. Stile. Facile da usare. Controllo remoto. Qualità del suono. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato. La valutazione di questo prodotto di One Concept è di 8.2 voti su 10. Lo valutiamo come la scelta migliore. I suoi punti di forza sono. Stile. Controllo remoto. Qualità del suono. Se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Sony. Con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 9 su 10. È il più esclusivo di questa selezione. Le caratteristiche principali sono. Stile. Comodo. Versatilità. Qualità del suono. Controllo remoto. Se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo, clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Majestic ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 8.2 su un totale di 10 punti. Ha per il momento il miglior rapporto qualità-prezzo. Le sue qualità sono. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Stile. Qualità del suono. Controllo remoto. In basso, nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto. Il voto finale aggiudicato da questo articolo di LG è di 8.8 voti su 10. Risulta al momento essere il più venduto online. Le sue funzionalità sono. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Stile. Controllo remoto. Qualità del suono. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Questo prodotto realizzato da Panasonic ha conquistato una votazione di 8.6 su 10 punti totali. Risulta al momento essere il più scontato di questa selezione. Questi sono i suoi punti di forza. Stile. Controllo remoto. Qualità del suono. Se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo, clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video.